Ciao Astronomers! Molti di voi sapete che uno dei problemi maggiori in astrofotografia moderna è il gestione di cable. Oggi voglio mostrarvi come l'EGLE, grazie all'unico design, propone la migliore soluzione per ridurre i numeri e i lati di cable necessari per il tuo telescopio. Iniziamo! Un telescopio set up per l'astrofotografia utilizza molti dispositivi che devono essere portati e controllati da un computer. Mount, camera, focuser, autoguider, filter wheel, due heaters, etc. Questo significa che avremo molti dati e power cable all around il tuo telescopio, e tutti i dispositivi devono essere portati separati, quindi avremo anche molti power uniti. Se usi un computer standard per controllare tutti questi dispositivi, quando il telescopio si muove, tramite e attraverso gli obietti astronomici, tutti questi cables possono portare e, in un peggio caso, disconnere. Questo è l'unico designiamo l'EGLE, non solo per essere il migliore computer per controllare il tuo telescopio, ma anche per migliorare il gestione di cable. In questo modo, tutti i dispositivi nel tuo telescopio sono collegati e potenti attraverso l'EGLE, con cables più piccoli e più piccoli, e tutti questi sono potenti attraverso con un single powering cable, da tua batteria o unità di potenza. In questo modo, il telescopio è libero di muovere ogni parte del cielo, e attraverso tutta la notte, perché i cables si muovono insieme con il telescopio, e non si pulire o detacere. In questo modo, l'EGLE è la soluzione per un migliore di cable management, in telescopi e astrofotografia. Per più contenuti che ti aiutano a esplorare l'Universo come un pro, iscrivetevi al nostro canale e... Clear Skies!